Grazie Nicola Saldutti. Nell'incontro precedente abbiamo sentito tantissimi spunti e tantissime indicazioni che ci dicono quanto tutto il passaggio alla nuova mobilità, soft, hard, sharing eccetera sia di fatto un processo che prevede tantissimi passaggi e prevede tantissimi protagonisti, tutti quanti devono naturalmente cercare di integrare, di partecipare portando il proprio e di questo entriamo in particolare sulla mobilità urbana, abbiamo sentito parlare di treni e di navi e oggi parliamo invece in questa ora che ci abbiamo davanti di mobilità urbana, a Milano naturalmente ma non soltanto a Milano, un altro dei concetti che sono venuti fuori poco fa è che stiamo parlando di un enorme laboratorio, un laboratorio significa che le cose stanno cambiando e che devono appunto trovare un proprio assetto, in passato abbiamo visto anche situazioni quasi far west, adesso invece piano piano non si stanno cominciando a consolidare le situazioni, allora io chiamo a parlare con me di questi argomenti Angelo Fienga che è responsabile EMEA, Circle Economy di Cisco che è un'azienda multinazionale che è specializzata prego nella fornitura di apparati di networking, Giorgio Mezzeli che è founder e CEO di Gaia Go che è una piattaforma di utilizzo della mobilità sostenibile all'interno di Passway di cui è amministratore delegato e che fa parte del gruppo WeFox che è il unicorn nel mondo assicurativo, quindi vediamo già cominciamo, abbiamo messo sul tavolo, parliamo di dati, di tecnologia, parliamo di assicurazioni, parliamo anche di energia con Roberto Giovannini, responsabile della sostenibilità di Terna, Terna lo sappiamo è l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica, gestione, movimento, sviluppo e consegna di spacciamento come si dice in gergo, poi abbiamo Saverio Galardi, general manager di Tier che è l'azienda di micromobilità multimodale, ormai più o meno sappiamo tutti di che cosa parliamo e quindi di scooter elettrici, monopattini elettrici eccetera, infine Tiago Figuera di general manager per l'Italia di Ziti che invece è car sharing elettrico, free floating come si dice in gergo, dobbiamo cercare di abituarci anche a molte di queste espressioni ma dobbiamo anche tradurle poi per le persone che ci seguono e cioè di auto che vengono consegnate, lasciate dove devono essere poi utilizzate da qualcun altro. Io chiedo a tutti poi magari alla prima volta che prendono la parola di dire brevemente esattamente che cosa fate con la vostra attività in modo tale che lo raccontiate molto meglio di me, però ecco come prima cosa io vorrei entrare sul fatto che parlando di mobilità urbana, la mobilità urbana è forse quella che dal punto di vista appunto della sostenibilità è quella che ci coinvolge ovviamente tutti come cittadini, come utenti. Abbiamo cominciato negli anni scorsi a usare il car sharing, il bike sharing, lo scooter sharing in monopattini ma la sensazione è che fino a questo momento eravamo proprio in quella fase di sperimentazione, di laboratorio, di caos anche da un certo punto di vista, un po' di far west anche in tanti momenti e che adesso si passi a una fase più matura. Io chiedo prima a Galardi, appunto il general manager di Tier, qual è la sua visione da questo punto di vista, visto che parlando di soft mobility è proprio quello di appunto bici e quant'altro, quello che vediamo sferciare nelle città. Milano e non solo Milano. Sì, Milano e non solo Milano, nel senso ormai l'ecosistema sharing è un ecosistema che ha una sua dimensione nazionale che non guarda più neanche nord, sud, centro, una realtà in tutte le grandi città italiane. Quindi quando si parla di sharing si deve guardare un ecosistema appunto ormai diffuso e utilizzato, radicato all'interno delle abitudini di spostamento delle persone ma che sta affrontando, come ci diciamo spesso, una evoluzione, nel senso ha affrontato la prima parte di innovazione, di nascita e successivamente di assestamento, adesso stiamo volgendo verso quello che è una maturità. Una maturità del settore da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di abitudini dei consumatori, quindi degli utilizzatori, ma anche di maturità da un punto di vista normativo e quindi di schema di servizio che i vari comuni piano piano stanno sistemando, nel quale stanno introducendo la sharing mobility per proiettarla verso, come ad esempio Roma ultimamente ha fatto con il nuovo bando, verso una funzione trasportistica ancora più spiccata. Questo non può essere fatto chiaramente se non si inquadra questa innovazione in un ambito di sostenibilità economica che deve venire dalle società, che adesso ho capito che finita la parte di espansione adesso c'è la parte di consolidamento, e dalla parte invece degli amministratori pubblici di creare dei contesti economicamente sostenibili. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei quali sono i punti fermi di questa maturità, di questa fase matura che abbiamo davanti? Allora, senza dubbio la consapevolezza che si deve passare a schemi di servizio appunto da parte delle città che non prevedano più un popolamento di operatori come si vedono ad oggi. E questo però è un concetto che è già passato nelle amministrazioni, quindi vi racconto quello che già è un processo in atto, parte da Parigi, parte da Londra, dire non vogliamo più 7, 8, 10 operatori, vogliamo scegliere gli operatori, devono essere un numero contenuto. Parigi e Londra hanno fatto le prime scelte decidendo che il numero giusto era 3 operatori. Altre città poi sono andate verso quella direzione. Oslo, in Italia anche Roma con il nuovo bando, Torino è andato su 4, Milano ancora siamo in fase della sperimentazione, quindi non si sa esattamente dove cadrà. Però ecco, quello sicuramente è un fulcro fondamentale. Comprendere che quando si parla di sharing si parla di multimodalità e soprattutto quando si parla di monopattine e biciclette si parla di due facce della stessa medaglia. Poi ci sono aziende specializzate più sui monopattini, quelle più specializzate sul monopattino e sulla bicicletta, però sicuramente le città devono cominciare a guardare come un unico di fatto, un'unica soluzione declinata con due modalità. E questo alcune città cominciano a vederlo. Parigi anche ad esempio, noi siamo attivi sia con monopattine che con biciclette, Londra è la stessa cosa, a Milano e Roma siamo attivi anche con doppia modalità. Quindi questo è un altro fattore, quindi scelta gli operatori, come scelgo gli operatori, guardo la qualità, non guardo le aste a rialzo e aste a ribasso, che hanno purtroppo creato degli schemi operativi in perdita, e guardo la multimodalità. Comincio a considerare il servizio come un supporto alla mobilità, ma che deve essere economicamente sostenibile. Ecco, allora parliamo appunto di mezzi, e passiamo allora al cash sharing. Tiago Figuera di Ziti ha tutta la flotta elettrica. Ecco, il passaggio all'elettrico cambia soltanto, ed è soltanto una diversa forma di energia che fa muovere il mezzo, o è un vero e proprio passaggio culturale dal vostro punto di vista? Sì, rispondo a questa domanda e anche brevemente presento un po' la società. Siamo una piccola società di car sharing e mi collego al discorso della sessione precedente in cui si parlava anche di Mass. Noi innanzitutto siamo Ziti, ma Mobilize è il braccio del gruppo Renault che si occupa della Mass, Mobility as a Service. E quindi è una decisione strategica innanzitutto del gruppo, per quanto riguarda sostenibilità, per quanto riguarda circular economy, e quella che è la visione di un gruppo un po' più grosso. Insomma, questo lato automotive fa parte anche di un laboratorio, abbiamo parlato anche di laboratorio oggi, no? Milano essendo un laboratorio abbiamo appunto portato le nostre auto elettriche e vediamo che non solo la questione della sostenibilità, ma anche di, come dire, integrazione con l'ecosistema in una città in cui abbiamo oltre mille punti di ricarica e stiamo sfruttando di questa network, non solo quella B2C, ma anche B2B. Milano è in piena crescita, in cui in questo senso possiamo permetterci di portare l'elettrico che fa parte dell'evoluzione e sostenibilità, ma anche quello che ha già una struttura adatra. Abbiamo parlato anche di idrogeno prima, ma ovviamente in questa fase l'elettrico è quello che spunta con questa infrastruttura che è necessaria. È sostenibile e l'infrastruttura esistente è fattibile per operare un servizio come il nostro di car sharing. E però, come abbiamo sentito anche prima, c'è tutto anche un problema di punto di infrastruttura. Quanto prevedete che queste infrastrutture risponderanno alle esigenze? Ecco, il nostro piano prevede l'utilizzo non solo delle colonine pubbliche, ma anche colonine private di proprietà nostra, anche di partner B2B. Ci sono tanti su mercato, fortunatamente, quindi bisogna bilanciare. Noi siamo partiti il giugno scorso, quindi siamo un servizio abbastanza nuovo, un mercato che era già maturo nella sua seconda fase, come diceva lei, in cui l'amministrazione, soprattutto nel caso del Comune di Milano, sta spingendo sull'elettrico. Tutti gli operatori saranno obbligati a cambiare le sue flotte verso l'elettrico entro il primo gennaio 2024. Quindi noi facciamo i nostri ragionamenti verso un bilancio, utilizzando, ripeto, colonine pubbliche, le nostre colonine e anche delle colonine dei key partners e fornitori che ci sono. Bisogna bilanciare perché anche andare a investere, spendere tanti sodi senza avere una certezza su bilancio, anche sulla domanda del servizio, non ci sembra sostenibile. Giorgio Mezzali, io volevo chiamarla adesso subito in causa perché stiamo parlando di automobili, di cash sharing. Ecco, io so che la visione di Gaia Gola, di cui adesso ci spiegherà brevemente il funzionamento, in realtà è anche legata a una visione diversa dell'automotive oggi e nel prossimo futuro. Ma sicuramente il cambiamento di cui stiamo parlando oggi attraversano quello che è il cambiamento più drammatico della più grande industria mondiale, che è quello dell'automotive. L'automotive negli ultimi 12 anni ha dovuto fare delle scelte strategiche che innanzitutto sono state industriali. Io sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, dove la scelta dell'elettrico non può essere vista come una scelta ideologica. È una scelta industriale e come tale va accompagnata. Sono assolutamente d'accordo che il solo elettrico in questo momento storico fa perdere un pochettino il punto di vista della transizione. L'automotive ne è un esempio clamoroso. La prima cosa che l'automotive sta affrontando è il cambio distributivo, il modello distributivo della mobilità. L'automotive non si chiama più così, si chiama mobility. Le industrie automobilistiche che noi conosciamo come tali si chiamano mobility company. I bilanci delle industrie automobilistiche ormai sono fatti da quasi il 50% di servizi. Industrie che guadagnavano per produrre telai di ferro e per vendere telai di ferro, adesso hanno capito che se producono e vendono meno telai guadagnano di più. Perché? Perché il ruolo del servizio incomincia a diventare centrale. Lo sharing è un esempio clamoroso di quelli che sono i cambiamenti tra automotive e mobilità. Gli sharing sono e saranno sempre di più di proprietà delle ex industrie automobilistiche. Queste daranno una sostenibilità al mondo dello sharing perché i bilanci saranno fatti non solo a livello gestionale ma anche a livello strategico. E quindi il parco auto che deve girare in una certa maniera. Noi veniamo dal mondo assicurativo. Noi distribuiamo centinaia di milioni di portafogli assicurativi a trafersi concessionari. Che però non esistono più perché quelli che noi chiamiamo concessionari adesso stanno diventando agenti. Pochi lo sanno e quindi continuano a chiamarli concessionari. Che cosa succederà di questi concessionari? Il ruolo del concessionario nella mobilità del territorio. Che ruolo è? È un ruolo molte volte, soprattutto da noi che è un paese lungo e stretto e fatto di provincia, è un ruolo di imprenditoria, di distribuzione, di mobilità che fino a dieci anni fa era quasi esclusivamente l'auto, rappresenta il 40% della mobilità del territorio. Quindi imprenditori che sono praticamente gli oligopolisti e sono sempre stati gli oligopolisti della mobilità. Non possiamo pensare che un cambio distributivo che viene dall'alto non possa creare delle opportunità imprenditoriali di interconnessione tra le nuove forme di mobilità sostenibili per le città. Quindi trasformare questi che erano concessionari in hub della mobilità. Le hub della mobilità hanno bisogno soprattutto di una cosa, di piattaforme tecnologiche per derimere la complessità che questi cambiamenti poi alla fine ci fanno affrontare, soprattutto per derimere la complessità dell'offerta ai clienti finali. I clienti finali della mobilità in questo momento mi ricordano molto noi quando siamo passati da comprare Nokia a comprare lo smartphone e avevamo bisogno dei consulenti per scegliere un contratto telefonico. Non sapevamo più che cosa compravamo, il telefono, gli sms. Adesso ci siamo abituati, abbiamo segmentato quelli che vogliono comprare il telefonino, quindi quelli che vogliono comprare l'iPhone o quelli che vogliono lo smartphone. Abbiamo capito che cosa più o meno, che cosa dobbiamo comprare e abbiamo capito che l'hardware non è poi la cosa che le grandi aziende fatturano realmente. Ecco, noi abbiamo da assicuratori, l'assicurazione ha un ruolo dal 1435, quello di accompagnare l'innovazione. Senza assicurazione non esiste sostenibilità dell'innovazione. E quindi sette anni fa abbiamo investito tempo e soldi per creare una piattaforma, l'idea era una piattaforma che venisse dal basso dall'esperienza che abbiamo fatto dalla distribuzione automobilistica, che si chiama Gaia Go, e che lavora principalmente su creare un valore della mobilità sostenibile attraverso verticali e community. Quindi la prima missione è quella di cercare di far offrire mobilità gratuita alle persone. E spieghiamo che cosa significa verticale e community. Allora, i verticali sono praticamente dei settori che noi abbiamo scelto, principalmente sono tre, il corporate, il real estate e lo sport. Poi c'è un quarto che è nato, che è quello dell'hotellerie. E le community sono proprio quel cluster di persone che sono all'interno di questi verticali accomunati da un'esperienza e quindi io sono il dipendente di un'azienda, io sono l'ospite di un hotel, io sono il condomino di un'area di rigenerazione urbana, piuttosto che io sono il tifoso di una squadra di calcio. O anche semplicemente uno sportivo di un centro. Questa verticalità, verticalizzazione e questa creazione della community per noi era importante perché concentrandoci sui servizi legati alla mobilità, avevamo bisogno di trovare un modo per spingere le persone a dare pertinenza ai servizi che noi offrivamo e che noi offriamo, altrimenti vengono visti come impertinenti. Che cosa mi offri? Io sono da un'altra parte. Invece all'interno di una community noi cerchiamo di creare pertinenza nell'offerta dei servizi di mobilità sostenibile. Per lo sharing noi siamo un boost, cioè cerchiamo, noi abbiamo all'interno di Gaia Go abbiamo aggregato circa 13 operatori di sharing. Ecco, la questione dell'aggregazione è molto importante. Secondo noi non esiste una sostenibilità anche economica dell'innovazione della mobilità se non c'è aggregazione tra i nuovi stakeholder, che sono tanti, abbiamo visto e stiamo vedendo in questi Green Talk, che sono tanti settori che vengono toccati. Anche l'agenda 2030 non è che ha tanti punti a vanvera, ha 15 punti perché la cosa è più complessa. E quindi l'aggregazione è secondo noi l'unica maniera per accelerare e poter in maniera sostenibile anche economicamente offrire e accelerare tutte le possibilità. Dell'aggregazione parliamo ancora meglio tra un attimo. Io volevo chiedere a Angelo Fienga di Sisco, voi fate tra le altre cose, perché poi appunto ci stiamo accorgendo che il problema della mobility in realtà più è come tirare un sasso nell'acqua che continua poi a allargare i cerchi e a coinvolgere tante cose. Ovviamente il vostro core è legato ai dati, alla digitalizzazione e di questo parleremo tra un attimo. Però mi piaceva sottolineare adesso che per esempio di mobility si parla anche a proposito di smart building, che se c'è qualcosa di stabile sono gli building. Quindi in che senso anche in questo senso la mobility coinvolge gli smart building? Assolutamente. In effetti gli edifici, dopo la pandemia, ma ormai da qualche anno, stanno trasformando la loro funzione d'essere. Non sono più il posto dove si va a lavorare, ma diventa un centro di accentramento di servizi, come si parlava anche prima. Quindi l'aserservice si coniuga anche all'interno degli smart building. Gli smart building, per esempio, un esempio è un edificio che abbiamo sviluppato ovviamente in collaborazione con The Partner in Norvegia. Non è solo il posto dove si va a lavorare, ma il posto dove puoi pianificare la tua ricarica. L'edificio è net positive oltretutto. Quindi diventa un elemento del tessuto urbano che abilita la mobilità intelligente. Quindi puoi pianificare di andare a fare una riunione, quindi occupando lo spazio dell'ufficio quando ti serve, al tempo stesso pianificare la ricarica, finire la tua riunione e tornare indietro, sapendo che comunque è contribuito a un circolo, diciamo, di sostenibilità più esteso, proprio perché quell'edificio è net positive. Quindi è un edificio che produce a sua volta energia attraverso pannelli solari, eccetera, ed ha integrato delle piattaforme di mobilità, sia per le colonnine di ricarica che per eventualmente anche altre soluzioni, altri servizi che sono integrati. Quindi lo smart building è un elemento abilitante nel tessuto urbano della mobilità intelligente, proprio perché è un elemento connesso. Appunto lo diceva anche prima Fighiera di Zitti, ma a questo proposito, siccome poi si parlava di aggregazione, di community e di progetti anche legati appunto a un building, e a un edificio, a una sede d'impresa, Roberto Giovannini di Terna può raccontarci l'esperienza proprio di Terna da questo punto di vista, cioè c'è proprio un'esperienza che è legata alla comunità dei dipendenti di Terna che ha un pensiero più vasto intorno. A differenza dei colleghi che sono fornitori, noi siamo dei fruitori e abbiamo utilizzato le competenze di aziende come le loro al servizio di un progetto che come dicevi tu giustamente ha una visione più ampia. Dico cose note, pandemia, contesto complicato, Terna è l'abilitatore della transizione energetica, è un'azienda con migliaia di chilometri di cavi elettrici, trasmette l'energia che serve a questo paese per funzionare. Già avevamo un bello shock per permettere alle persone durante la pandemia di continuare a lavorare a casa, quindi l'energia non poteva mancare, sarebbe stato il disastro. E' stato un grande shock per il paese, è stato un shock ovviamente anche per noi. Si è fatta lì una scelta che è questa di provare a cambiare il mondo di lavorare in azienda all'insegna della sostenibilità. Sono parole che sembrano banali, scontate, non facciamo altro che parlare di questo. Concretamente però è stata declinata in cose concrete, cioè non abbiamo acquistato, ovviamente abbiamo fatto lo smart working come tutti, adesso c'è un dibattito, come sappiamo, in uscita da quella fase, noi continuiamo su quella strada. Non abbiamo acquistato uffici, noi abbiamo cercato di pensare al modo migliore di far lavorare le nostre persone. Chiaramente siamo un gruppo molto grande, oltre 5.000 persone con una forte parte operaia che lavora sul territorio, ma ovviamente abbiamo dei grandi centri di aggregazione in quasi tutte le principali città di ufficio, a partire dalla sede centrale di Roma dove lavorano oltre 1.000 persone in alcuni immobili. Non abbiamo comprato gli edifici, abbiamo deciso di gestirli, gestirli, gestire questi spazi con una tecnologia che è ovviamente molto banale, tu puoi prenotare dei tavoli, non hai il tuo tavolo con la foto, il bambino e la Totti, se sei della Roma o di altre squadre, ma tu puoi prenotare qualunque posto, insieme con i tuoi colleghi, e lavorare normalmente. Non vuoi andare in ufficio perché non puoi, abbiamo realizzato dei co-working, ovviamente è tutto un processo graduale, ma si sta estendendo in tutte le principali sede di Terna, quindi si può andare tranquillamente a lavorare, ovviamente collegato perfettamente con tutti gli altri colleghi, quindi non ci sono problemi di nessun tipo. Allo stesso tempo ci siamo posti il tema della mobilità, ovviamente siamo qui a parlare di mobilità sostenibile, e quindi ovviamente abbiamo fatto la scelta della mobilità sostenibile perché il progetto di Terna è quello di essere l'abilità dolore di un'Italia più dolce, più rinnovabile, più pulita. Che cosa ha significato concretamente? Abbiamo cominciato a guardare tutti i campi, qui ci sono tutti, quindi automobili, car sharing, ovviamente possibilmente ibride, poi abbiamo pensato alle biciclette, abbiamo pensato ai monopattini e abbiamo realizzato queste possibilità per i nostri colleghi, ovviamente con spieghi sconti. La cosa forse più divertente, spero più interessante, è stato un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con Pirelli, in cui loro ci hanno messo a disposizione dei mezzi molto belli, biciclette a pedalata assistita, con anche una rastrelliera intelligente, molto bella anche da vedersi, le bici sono obiettivamente stupende, e abbiamo messo a disposizione dei colleghi. Abbiamo cominciato con la sede di Roma, con 20, ma stiamo espandendo, già sono 8 sedi, ma stiamo crescendo gradualmente, ovviamente anche per capire un po' la risposta. Il meccanismo è semplicissimo, il collega può prendere, ci sono quattro modalità, se la vuoi tutta la settimana, se la vuoi soltanto nel weekend, non fuori dall'ufficio, se vuoi andarci da casa all'ufficio, la tieni gratuitamente. Quindi è una soluzione molto conveniente, molto sana, molto divertente, e ovviamente studiata, abbiamo pensato, anche e soprattutto perché il grosso è a Roma, quindi una città che non è del tutto piatta, è anche più calda, insomma, spesso quando è calda è molto calda. E quindi, diciamo, la soluzione pedalata assistita sicuramente è stata una soluzione vincente, anche perché la risposta è molto positiva, naturalmente, visto che abbiamo fatto un passo ulteriore, adesso mettiamo a disposizione delle biciclette sempre pedalata assistita pieghevoli, con possibilità di noleggio o di acquisto, se poi il collega è contento e desidera tenersela, e anche questo ovviamente è una cosa, è un'iniziativa che ha avuto un grande successo, ovviamente ce lo possiamo permettere perché siamo un'azienda con le spalle larghe, e quindi possiamo avere una progettualità grande. Però questa progettualità di alto livello, come vi dicevo, sta dentro una visione complessiva, cioè una visione di un modo di lavorare diverso, un modo di lavorare che permetta, ovviamente, tutta la socialità del lavoro condiviso, che è importante, non ce ne rendiamo ben conto, però ha anche la possibilità di condividere l'esperienza lavorativa in forme diverse, in forme anche un pochino più innovative, un pochino più smart, per usare il termine classico. Infatti fa di cose perché la mobilità sostenibile, la mobilità smart, prevede appunto smart working, co-working, è sempre per vedere come tutto questo mondo si deve tenere insieme anche. Ecco, Metsalys diceva prima della proposito di aggregazione, quindi per esempio, questo è un'altra forma di aggregazione, quanto le forme di aggregazione, viste anche dal vostro punto di vista, ma anche proiettandole poi nel mondo circostante, sono importanti, che cosa possono dare? Un esempio soprattutto in operativo, noi quando abbiamo fatto Gaia Go, la prima cosa che abbiamo fatto è metterla in connessione con le rigenerazioni urbane e il real estate. Gaia Go è la prima piattaforma sulla mobilità che è certificata Lead Brime Well. La certificazione Lead Brime Well è la certificazione internazionale di sostenibilità che crea valore per i grandi investitori internazionali. Non esiste un aggregatore che non pensi alla sostenibilità anche finanziaria del progetto e di chi usa poi la piattaforma che vuole offrire mobilità. Ecco perché i verticali, perché ogni verticale ha una filiera, una creazione del valore che è diversa e quindi noi dovevamo analizzare quello. L'aggregazione è fondamentale perché la velocità dei cambiamenti che noi stiamo vedendo è tale per cui qualsiasi piattaforma centralizzata che voglia offrire tutto sotto un solo ombrello rischia di diventare vetusta e prigioniera dei propri investimenti. Quindi secondo noi l'unica cosa, noi veniamo da un mondo che è quello assicurativo, che ha visto un esempio clamoroso che è quello dei comparatori. I comparatori erano visti dalle compagnie assicurative quando sono nate come il fumo negli occhi. Adesso sono una linea di business fondamentale. La mobilità deve seguire anche molti modelli che sono già stati sviluppati anche in altri campi. Questo dei comparatori sarà un'altra delle strade da seguire? Sì, perché comunque, ripeto, per esempio Ziti sta facendo una cosa secondo me molto interessante che è quella di far capire all'interno della loro app all'utente il costo della ownership rispetto al costo dello sharing. È vero, siamo un pochettino ancora al paleolitico rispetto ad analisi, però è un inizio che ormai ognuno di noi culturalmente nel nostro piccolo sta facendo. Quello che Terna fa che è una cosa che dovrebbero fare tutte le grandi aziende che hanno le spalle larghe e non tutte le fanno perché stanno aspettando la normativa che le obblighi a farlo e infatti per esempio Gaia Go per le corporate non fa altro che dire benissimo creiamo un marketplace che sia finalizzato esclusivamente alla mobilità quindi non solo l'azienda regala ore di mobilità o attraverso vettori o attraverso un wallet poi il signor Rossi dipendente dell'azienda deciderà come meglio destinare sul territorio queste ore di mobilità ma anche quello di creare una circolarità per esempio sul consumo etico e quindi a questo punto la piattaforma diventa una welfare mobility platform e cioè interviene su quello che è il rapporto tra l'azienda e tutte le azioni di welfare con i propri dipendenti e quindi l'agevolazione di acquisti di servizi che possono essere molto lontani dalla mobilità ma che il cui consumo all'interno di quel marketplace fa crescere il mobility wallet poi sul territorio parlando proprio a proposito di questo introduciamo un altro degli elementi di questo calaidoscopio a questo punto che riguarda che rappresenta la mobilità che è la tecnologia che è un convitato diciamo essenziale l'abbiamo nominato praticamente ad ogni passaggio in questo e nel precedente incontro Fienga proprio da questo punto di vista in che modo la tecnologia diventa un fattore abilitante per far sì che le città siano ancora più sostenibili ci fa qualche esempio perché Cisco poi ha il panorama mondiale davanti da questo punto di vista abbiamo parlato abbiamo parlato prima degli edifici andiamo dall'altro estremo della mobilità immaginate di stare a 300 all'ora su una pista a guardare a guidare e a portare l'auto ora chiudete gli occhi che succede? ci si schianta bene ora immaginate se su quella macchina non c'è una persona ma c'è una guida autonoma quello che è successo ad Indianapolis con la Dallara questo come è avvenuto? perché non si sono chiusi gli occhi? perché c'era la tecnologia intorno che abilitava il passaggio di dati fra la macchina e l'ambiente circostante ora senza arrivare all'estremo di Indianapolis penso per esempio alla lavoro che è stato fatto a Brescia nell'ambito però della mobilità come? rendendo connessi gli autobus rendendoli connessi per analizzare il numero di persone che ci sono dentro la temperatura l'ambiente ma anche per fare manutenzione preventiva questo che cosa vuol dire? vuol dire raccogliere tutte quelle informazioni che vengono dai sensori connessi all'interno degli strumenti degli automobili degli autobus eccetera per costruire per dare termine tecnico sono le API non l'Application Programming Interface per dare i dati che permettono di costruire dei servizi servizi di cui non è detto che oggi abbiamo la completa visione si parlava prima di costruire sempre nuovi servizi quindi fornire dati a sufficienza informazioni contestuali cosa sta avvenendo per permettere di costruire servizi come miglior utilizzo come manutenzione preventiva manutenzione preventiva è uno degli elementi abilitanti della sostenibilità quindi io non interrompo un servizio non faccio sfasciare un automezzo io prevengo il problema ottimizzandone l'uso quindi ottimizzando anche l'uso delle risorse ecco tutto questo avviene attraverso la capacità di raccogliere queste informazioni raccogliere in maniera sicura non voglio entrare nel tema della cyber security c'è tutto una questione ovviamente un'altra questione però diamo per scontato in qualche modo troviamo si fa esattamente quindi la cyber security è sicuramente un fattore abilitante ma la capacità di raccogliere questi dati di trasportarli di trasformarli in servizi che appunto dicevo oggi alcuni esistono altri li dobbiamo ancora inventare è quello che poi abilita il percorso appunto di mobilità smart altro esempio concludo con questo un progetto fatto anzi due progetti interessanti uno a Caldas de Reina in Portogallo qualche anno fa in cui uno degli obiettivi era quello di dimezzare il tempo di parcheggio ora io vivo a Roma come il collega di Terna se mi dicessero nella tua qualità della vita nella tua sostenibilità se ti dimezzo il parcheggio a Roma quanto cresce facciamo una statistica andiamo 50-60% questo è un esempio l'altro esempio sempre a proposito di innovazione attraverso i dati un progetto che si sta svolgendo in Inghilterra un pilot e-flex in cui si inverte il meccanismo della colonnina elettrica si chiama EV2Grid cioè quindi fra poi si starà un parco di installato elettrico di auto elettriche enorme perché non utilizzarlo come fra virgolette batteria tampone nel caso dell'eccesso di energia quindi magari la notte quando forse l'eolico continua a funzionare quindi è disponibile però non viene utilizzato quindi utilizzare questa enorme capacità che metteremo sul mercato in maniera bidirezionale come lo fai questo avendo a disposizione la pianificazione delle persone che devono guidare la pianificazione dell'utilizzo dell'energia eccetera ecco questa è la tecnologia abilitante nel contesto della sostenibilità una domanda molto banale probabilmente ma tutta questa intelligenza artificiale con tutti questi big data di cui abbiamo parliamo da tanti anni ma che continuano ad avere una grandissima evoluzione quanto è difficile quanto sarà difficile gestirli cioè noi ci diciamo sempre che in questo cellulare c'è più tecnologia di quanto ce ne fosse quella della NASA che hanno spedito in tutti gli anni 60 70 sulla luna ecco in realtà quanto sarà difficile questo sia per Cisco sia poi per la ricaduta nella vita nostra quotidiana ma mi verrebbe da dire che siamo qui apposta per risolvere questi problemi sia come società tecnologiche sia come società di servizi sicuramente c'è una necessità di sviluppare quelle che chiamano le technology schemes le stems le materie stems quindi è un elemento fondamentale un elemento fondamentale che non come dire compete solo all'industria compete soprattutto diciamo ai governi di sviluppare le competenze necessarie l'industria può contribuire per esempio Cisco ha una soluzione ha un programma di networking academy credo ormai da vent'anni ha formato circa 15 milioni di persone quindi è importante quindi la formazione è importante ma non se il tema è come dire saremo disconnessi distaccati dalla tecnologia non credo anzi il fatto dello sviluppo dell'iPhone delle nuove soluzioni per rendere l'accesso ai servizi più facili penso ci sia dimostrando che che tutto sommato si può fare c'è ancora il tempo per inserire un altro degli elementi gli elementi ce ne sono ancora altri e che è quello diciamo della collaborazione con le amministrazioni locali allora io lo chiedo a a tier e quindi a Saverio Galardi la visione dal vostro punto di vista ma lo chiedo anche per quanto riguarda Ziti a Fighiera prego ma posso portare sicuramente alcuni esempi internazionali che avevo già anche portato su altri percoscenici diciamo in Italia perché è interessante vedere anche come si si approccia al di fuori sicuramente il tema degli API il tema della condivisione dei dati il tema dell'utilizzo dei dati che produciamo in quando parlo di dati parlo chiaramente di dati aggregati protetti dal GDPR quindi non stiamo parlando di dati individuali ma chiaramente dati collettivi gli esempi ce ne sono molti però ad esempio quello che abbiamo fatto su Oslo può essere interessante far capire come oggettivamente certi dati possono essere applicati noi cosa abbiamo fatto Oslo aveva appunto questa necessità di rafforzare il trasporto pubblico e l'accesso al trasporto pubblico ferroviario quindi ci siamo inseriti nell'analisi dell'utilizzo dei nostri mezzi mettendo come coordinate GPS tutti i punti delle stazioni metroferroviarie all'interno dell'area operativa di Oslo per vedere in quali nodi oggettivamente c'era un maggior numero di fine corsa e inizio corsa quindi per capire dove si creavano i nodi di interconnessione insieme alla città di Oslo a quel punto siamo andati a intervenire su quei nodi per potenziare l'offerta e anche il riordino dei mezzi nei nodi e siamo andati a capire perché gli altri nodi non erano così colpiti diciamo o non erano così interessanti per i nostri utilizzatori andando quindi a creare delle sinergie nuove, diverse rispetto a sharing e trasporto pubblico locale su ferro ad esempio quindi ecco questo è un esempio di come i big data possono essere applicate alle città anche le città italiane ovviamente hanno inserito tutta una serie di percorsi che andranno verso quella direzione però è interessante visualizzare concretamente cosa si può fare altri due esempi sono sicuramente anche Parigi e Londra Parigi aveva quando ha lanciato il servizio un problema grave di sovraffollamento diciamo dei mezzi in sharing in certe aree ha deciso di togliere il free floating free floating si intende appunto il sistema dove si lascia si lascia ovunque in mezzo è andato a inserire un sistema di parcheggio anche lì partendo dai dati dagli studi diciamo dei dati che avevamo condiviso precedentemente creando però un'infrastruttura virtuale di punti parcheggio e poi dopo anche con tracciatura andando a togliere parcheggio alle automobili però su tutta l'area operativa con una forte densità con un punto parcheggio ogni 200 metri stessa cosa diversa l'ha fatta a Londra Londra e termino ha sviluppato un approccio diverso detto non avvio il servizio e poi capisco quello che mi può servire o quello che il servizio mi può dare decido prima quello che voglio decido quali dati voglio monitorare decido gli obiettivi che mi voglio porre e butto giù delle ipotesi insieme al lavoro con gli operatori con dei tavoli di lavoro cadenzati andiamo a vedere dove andiamo andiamo a monitorare quei dati a capire se oggettivamente quegli obiettivi sono raggiungibili per me e per voi e quindi costruiamo il servizio del futuro però partendo da una programmazione e poi a livello empirico vedere cosa succede quindi ecco questi sono tutti esempi di come oggettivamente e dal suo punto di vista quale di questi diciamo ovviamente poi le città italiane sono molto diverse tra di loro ma diciamo idealmente quale le sembra quello che possa in qualche modo funzionare meglio beh sicuramente dipende dalle necessità della città io penso che l'approccio di Londra sia estremamente maturo e successivamente l'approccio di Parigi anche sia sia un po' il punto di riferimento per noi sia Londra che Parigi cioè prima programmiamo e poi attuiamo certo e non vogliamo free floating vogliamo stazioni facciamolo lo facciamo con una densità necessaria però ecco sicuramente Londra e Parigi credo siano state le città con l'approccio più maturo visto diciamo fino a oggi Fighiero dal punto di vista di Zitti credo che anche sia interessante anche qualche esempio che ci può fare abbiamo tanti esempi posso anche collegarmi ai discorsi precedenti non solo di Saverio ma anche dei colleghi a altre sessioni ma sicuramente la questione della domanda è importante e tanti tanti dati che le amministrazioni raccolgono potrebbero essere anche utilizzati per indicare come nell'esempio di Oslo più chiaramente i nodi che sono diciamo assenti da trasporto anche con cambiamenti che abbiamo nelle nostre città ad esempio come area B in qualche modo Zitti possiamo aiutare e collegarci a dei punti aiutare le persone che devono muoversi verso la città insomma tanti esempi e forse l'ultimo e concludo la questione delle colonine perché si parlava prima di utilizzare meglio le colonine ecco quindi forse quello lì è un punto in cui bisogna in qualche modo con gli operatori raccogliere più dati su delle colonine e sfruttare al meglio della sosta e questo vuol dire che è difficile consentire senza qualche controllo ai utenti di lasciare i veicoli e poi occupare le colonine non è questo l'obiettivo ma sicuramente i dati e la tecnologia potrebbero essere utilizzate in questo punto e questo è un esempio sicuramente rilevante allora ma abbiamo un minuto per concludere io ho una domanda che vorrei fare poi lascio libera chi ha voglia di rispondere perché abbiamo parlato degli operatori delle imprese di tanti spunti diversi non abbiamo parlato degli utenti ecco dal punto di vista degli utenti cosa bisogna fare per educare anche gli utenti in tutti i sensi che abbiamo anche detto sia nell'utilizzo del mezzo sia nell'idea generale di passare a un sistema di mobilità più complesso quali strumenti potete pensare cioè chi ha voglia di io posso dire quello che sta accadendo con Gaia Go soprattutto sulle generazioni giovani molto giovani l'approccio della gratuità della mobilità è un incentivo importante noi abbiamo fatto delle esperienze con Adidas per il loro tour di basket nelle città italiane e abbiamo ottenuto un enorme successo utilizzando il marketplace dove i ragazzi vedendo le pubblicità all'interno dei marketplace creavano wallet sulla mobilità gratuita e utilizzavano poi gli sharing sul territorio quindi sicuramente quello è per un certo tipo di pubblico quello può essere un acceleratore notale ho visto prima mi è sembrato eh no prego prego ovviamente anche il nostro modello con le bici a pedra assistita si basa sulla gratuità e quindi è non vincente vincentissimo però noi ci siamo accorti che c'è un passaggio culturale che poi è generazionale in realtà i nostri giovani i più giovani sono nativamente pronti a usare questo tipo di mezzi non acquistano l'automobile un collega di sostenibilità viene con il suo monopattino se lo porta su se lo attacca alla spina è un è un passaggio che credo sia anche abbastanza inevitabile è vero che tu puoi favorire o sfavorire e noi adesso abbiamo come dicevo in precedenza abbiamo provato diversi strumenti per adesso abbiamo visto che la bici vince nettamente non solo per la sua gratuità ma anche perché è un pochino più facile cioè il monopattino ancora un po' spaventa beh il collega di Roma lo sa che la vita non è semplice nella nostra città quindi cioè ma proprio sopravvivere e quindi certo ho visto mi è sembrato che anche sì 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 molto telegraficamente però insomma io credo che fortemente gli elementi fondamentali sì sicuramente andare a incentivare l'utilizzo è fondamentale ma non è tutto cioè bisogna accompagnare gli utenti quando parlo di accompagnare intendo forte comunicazione secondo me anche sarebbe necessaria una forte alleanza tra tutti gli operatori non solo di mobilità in sharing ma chiunque guarda la mobilità la mobilità del futuro ma comprese gli automobili per andare a raccontare cosa si può fare andare a colpire cioè a colpire a raggiungere esatto gli utilizzatori soprattutto i ragazzi i più giovani e io credo una cosa fondamentale sia il principio di imitazione cioè non solo raccontiamo e spieghiamo ma facciamo vedere come si può utilizzare il sistema in modo diverso cominciamo a portare degli utenti a educarli a far vedere agli altri che oggettivamente si può utilizzare si può vivere ci si può spostare nelle città e dalle province alle città perché noi parliamo tanto di città ma oggettivamente dobbiamo parlare anche delle province in Italia si può approcciare la mobilità in modo diverso quello che fa Terna secondo me è importantissimo cioè il principio di imitazione è fondamentale e mettere insieme tutti gli attori che parlano di mobilità dalle amministrazioni alle aziende per raccontare e spiegare come si può affrontare la mobilità diversamente grazie abbiamo ampiamente sforato il nostro tempo io passo la parola a questo punto per continuare a parlare di questo argomento naturalmente ci sono tantissimi altri aspetti le ciclabili eccetera eccetera ma passo la parola al collega Giovanni Stringa che approfondirà a sua volta un altro tema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti